eccoci qui amici buonasera buonasera guardate che faccia da auguri che abbiamo questa sera la settimana dove ci vedrà tutte le sere nelle vostre caglie eh nelle vostre caglie siete contenti siete contenti eh sì 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 esatto e buon Natale X e Mary Christian stiamo aspettando di cominciare il ventiquattro questo grande direttore ragazzi in più vi ricordo che siamo sponsorizzati tutta la settimana fino a capodanno dalla ditta Bisones e se direi a per il vostro spettacolo pirotecnico e ci saranno anche delle giornate in cui è permesso andare o ve li portano a casa e gentilmente si sono offerti di farci avere anche dei piccoli pochi d'artificio da fare il venticinque durante How Sensation di Natale esatto gli anni scorsi non si chiamava così vabbè poi e poi altre altre bellezze stasera vai tu a scatti caro il mio roviere sì sto andando a scatti ho uno scaricatore qua in eh certo vediamo un pochino ma chi sarà mai chi sarà mai ah beh grande massa grande ho ricevuto il messaggio e ti mando poi anche il mio numero Gian Pietro e poi non potrà mancare Pellerai 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 o non Pellerai lui è un grande pasta le giornate aspettandoci qua incredibilmente incredibilmente meno male che ci sono i nostri follower tra l'altro stiamo lavorando al box per farvi avere tutte le nostre dirette già on demand subito così almeno quelle potete andare a rivedere nude crude come le vedete quindi anche con le chiamate qualsiasi cosa senza bip senza nulla siamo così live chissà come si scriverà live però lo scoprirete poi durante ciao Fabrizio buonasera preparate il trattore di cioccolata preparatevi perché i più meritevoli entreranno in diretta con noi a fare gli auguri potranno anche aprire i pacchi di di natale con noi in diretta eh scartare i regali vedere i nonni ma scusa sono un pacco di cose ma uno si dice ma non avevano sufficienza ieri sera perché anche questa sera perché questa è stasera noi stiamo aspettando un ospitone perché casa è poradio è una casa di amici una casa di personaggi a volte anche importanti come quello di stasera che io lo vedo già sotto pronto ad entrare in diretta lo devo solo lanciare però facciamo un attimo di di hype scaldiamo un po' anche se abbiamo ricevuto la locandina e l'abbiamo condivisa dove Carmencita dove sarà Carmencita cosa sarà la locandina che è un tuo grande ammiratore quindi qua ci scambiamo effusioni io sempre in mezzo a fare la figlia del popolo così a guardare non sapevo di essere arrivato a così grandi livelli cioè sapevo a parte a parte di popolo però volevo dire delle parolacce non si possono dire stasera però voglio salutare auguri 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 da castellamonte dalla lontanissima castellamonte pensate che noi siamo in groenlandia in questo momento grandi amici castellamonte presenti anche stasera comunque volevo dire questo volevo facciamo entrare vi ricordo il nostro sport del nostro partner fino a capodanno che poi vabbè lo trovate sempre come ufficiale sul sito di epporadio bisogna essere potete fare i fuochi tranquilli a casa sempre in sicurezza andate a prendere sono anche non casinistissimi per gli animali quindi state tranquilli il 25 abbiamo ricevuto dei fuochi da loro da fare in live ma soprattutto ringraziamo l'anonimo che ci ha donato 50 euro per comprare un po di fuochi d'artificio da fare a capodanno perché capodanno saremo qua in diretta ma non solo bisone cosa ha fatto bisone c'è stato ancora più fuochi e quindi per le persone meno fortunate si beccheranno questo spettacolo una parte sono stati già donati alla caritas per dare dei passi ma questa persona ci teneva che noi facessimo in diretta questi fuochi d'artificio e allora per parlare di persone che si occupano di noi ma sono venute anche a trovarci a fare due chiacchiere bam buonasera buonasera a tutti una campana un campanaccio la campana dell'amore la campana dell'amore una campana guardate buonasera a tutti da roma da roma incredibile questo collegamento come è stato possibile con roma io non ci posso credere a san giorgio a malapena adesso ora con roma guardate è la forza del web sono nella mia stanza di bed and breakfast perché c'è stata una interruzione dei lavori allora prima di una convocazione le 22 30 22 e 40 e quindi sono venuto nella stanza del bed and breakfast per fare la diretta con voi senza mascherina perché se stavo nel mio ufficio dentro il palazzo dovevo stare mascherato quindi ho detto allora mi vado un attimo al bed and breakfast e poi corro di nuovo in aula perché stiamo votando la legge di bilancio dello stato la finanzia famosa finanziaria che questo mio coscritto in questo momento un onorevole della repubblica italiana pensate che ha trovato un momento per venirci a trovare ed è questo il bello perché abbiamo lasciato la porta aperta sempre la porta di eporadio aperta tutti perché come sapete la radio eporadio è a politica però fa piacere che gente come alessandro amici come alessandro o altre persone si sono sempre rese disponibili per fare gli auguri agli amici trovare dieci minuti contate che stanno mandando avanti una nazione queste persone eppure sono qua con noi a fare quattro chiacchiere a salutare tutti quanti no ma io io con con eporadio ci sto sempre volentieri anche perché comunque in questo momento di difficoltà vi siete distinti perché siete andati avanti nel senso che siete stati vicino ai giovani principalmente in un momento in cui stare vicino è difficile siete stati vicini ai giovani siete stati vicini alla gente siete stati vicino al nostro canavese che tutti quanti amiamo tantissimo e quindi io vi faccio i miei complimenti vi ringrazio perché a modo vostro avete fatto la vostra parte poi certo ovviamente ci sono medici infermieri le ross chi non si è fermato durante il primo lockdown ai camionisti abbiamo scoperto che la cassiera del supermercato o cassiere perché non è per forza la cassiera deve essere deve essere femmina o cassiere è un lavoro essenziale e tutti quelli che si occupano diciamo degli anziani benzinai perché senza benzina non si va avanti i contadini tutti quelli che perché poi vabbè io dico contadini nel senso che poi istituzionalmente si dovrebbe dire settore agricolo imprenditore agricolo però noi siamo a cannausanne e noi abbiamo abituato a parlare la nostra muda quindi da noi auti alle nilli imprenditore agricolo no il contadino e quindi abbiamo capito che sono lavori essenziali e voi a vostro modo avete fatto diciamo la vostra parte avete fatto le vostre raccolte fondi avete aiutato a comprare i saturimetri quando non ce n'è erano e quindi ovviamente io sono sempre contentissimo di essere di essere con voi stasera sono un po più scombinato del solito perché col fatto che mi sono buttato nel bed and breakfast mi sono colto la giacca che dentro il palazzo istituzionale quindi un po' anche il periodo di Natale mi sono messo un po' in desabiglie ecco no così poi da ragazzo degli anni 80 e da frequentatore delle midnight negli anni 90 ovviamente sono un fan di Christian Rovier quindi è chiaro cioè per me è un sogno essere un Christian di collegamento no? cioè noi eravamo piccoli lo vedevamo lui lì grande DJ in queste midnight no? in mezzo alla nebbia canavesana e quindi la differenza è che tu sei diventato onorevole e noi siamo rimasti nella nebbia però va bene nel senso di io ti ringrazio per questa cosa è un grosso complimento avere un fans a Roma avere un fans onorevole e quindi per me sono parole molto molto belle quelle che stai dicendo mi sento onorato di avere l'onorevole come fans mi sento onorato di avere l'onorevole assolutamente ma ma noi quella nebbia la amiamo perché è casa nostra assolutamente ed è lì che ti volevo ed è lì che ti volevo senti ma non torni a casa cioè lavorerete fino all'ultimo fino a Natale oppure c'è possibilità che tu torni in questa nebbia? non lo sappiamo non c'è ancora calendario non si sa se torniamo il 24 sera se torniamo il 25 mattina se non torniamo e facciamo il Natale in aula non però d'altra parte questo è un anno particolare quindi ovviamente diciamo è anche giusto che sia così siamo comunque rappresentanti del popolo e dei cittadini a me piace usare il termine popolo perché mi dà l'idea di così della concretezza della nazione della della gente no tutte insieme no così è un termine evocativo no siamo rappresentanti del popolo dei dei cittadini quindi giusto così se dobbiamo farci Natale fra le commissioni in aula siamo assolutamente ben disposti a farli ma poi d'altra parte voglio dire per alle nostre latitudini ogni tanto io qua mi confronto no con i con i colleghi e con i colleghi che arrivano da dal sud Italia no e da loro e da loro il 24 di dicembre la sera è il cenone no e quindi stanno in famiglia mentre dalle nostre parti c'è al 45esimo parallelo dove stiamo noi in mezzo alla nebbia in mezzo alla neve il 24 di dicembre non è la famiglia cioè da noi 24 di dicembre e c'erano il 25 famiglia al 24 e il paese la messa di Natale tutti insieme il bimbole gruppo degli alpini che fa il vino le castagne il presepe vivente no si sta tutti insieme così fra amici nel paese ci si saluta il sindaco il prete e via dicendo e poi finita un po così la parte più più religiosa no si prende magari si va ancora a bere una birra in qualcuno dei nostri dei nostri pub cannavesani no a fine quest'anno non si può fare nulla nulla di tutto questo e quindi va bene cioè se se tanto come dire sul territorio è tutto fermo no e sì ci sono le messe al ci sono le messe alle 20 alle 22 va bene però come dire dintorno non c'è niente allora come dire tanto vale rimanere 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 qua ecco ci sarà magari lo spazio per andare a messa daranno le due ore per andare a messa qua abbiamo una chiesa molto vicina molto bella molto bellina anche san san nicola dei prefetti che proprio vicino a montecitorio magari ci daranno così quel paio d'ore per fare per andare a messa e via bom e poi 25 se si è con la famiglia bene se no ovviamente un po dispiace però fa niente si si come come si dice si si festeggia poi un altro giorno con la famiglia ecco l'importante è rimanere qua ecco in questo momento chiaramente sembra corretto e giusto vabbè dall'altra parte non ti preoccupare che perché noi nonostante non possiamo mettere le cuffie col jack in un mixer davanti alle nostre persone della notte la nostra gente della notte come cantava giovanotti abbiamo organizzato una settimana di intrattenimento apposta per far divertire lo diciamo sempre facciamo anche imitazioni facciamo ridere ma è sempre fatto nel pieno rispetto innanzitutto di delle vittime di questo covid però c'è bisogno di dare uno spazio una stanza di sorrisi alle persone e quindi abbiamo organizzato qui dagli studi un po di collegamenti soprattutto queste due serie sono dedicate agli auguri questa sera abbiamo il piacere di avere a te domani sera ci sarà andrea però poi durante le altre serie faremo proprio intrattenimento sai un po di cinema come si dice dalle nostre parti proprio per migrare magari sai durante il cenone va bene si guardano una poltrona per due il 24 e poi magari guardano noi che facciamo gli stupidi ma è giusto così impegnato nel suo campo in questo periodo vabbè non sono due livelli diversi state gestendo una nazione ci manca però se tutti facciamo mettiamo un tassello nel puzzle come dico sempre si va avanti no ma state state facendo qualcosa di anche perché la c'è adesso come dire le persone i cittadini hanno capito di che cosa si tratta sanno che non è uno scherzo sanno che è una roba come si dice seria sanno che è importante mantenere fare tutte quelle robe che no quindi mantenere distanze igienizzarsi le mascherine è qualcosa di assolutamente vitale però di contro ovviamente da da tutti i punti di vista c'è il tema lavorativo economico che è importante che ovviamente c'è da tutti i settori lavorativi c'è tantissima voglia di normalità che io spero che in qualche mese adesso con l'arrivo dei vaccini si eh si raggiungerà eh penso il vostro settore voi siete fermi da febbraio febbraio domani sono dieci mesi domani sono dieci mesi cioè quasi quasi un anno che voi siete fermi penso ai ristoratori all'altalenarsi delle zone gialle zone rosse chiusi l'asporto le diciotto io sto cercando il il più possibile finché ovviamente il fegato me lo consente di eh cenare nei ristoranti da asporto quando siamo sul nostro territorio quindi io veramente invito tutti ad andare a vedere ad andare a cercare i loro ristoranti di fiducia se sono aperti se hanno deciso di fare asporto io sto mangiando veramente forse forse anche troppo è benissimo perché prendo vado e mi faccio il mio del del non delivery ma vado io mi faccio l'asporto quindi comunque ci sono tantissimi settori che hanno veramente bisogno di normalità ma anche la gente nella testa c'ha proprio bisogno di normalità guarda aspettavo che tornasse cristian perché vi voglio raccontare una piccola cosa che mi è successo e ma cioè e mi è veramente rimasta nella nella testa mi è successo adesso venti minuti fa un quarto d'ora fa esco da Montecitorio scendo una via prima di venire qua a parlare con voi dovevo incontrarmi con un funzionario per prendere un documento quindi scendo giù una via di Montecitorio e vedo una ragazza che ci aveva avuto venticinque anni e che si muoveva si muoveva si muoveva in un angolo della strada cioè se si muoveva era ovviamente la guarda un po sovra pensiero come sempre quando si esce così dai palazzi istituzionali ancora con la testa collegata a quello che era appena successo è collegata a quello che sta per succedere mi giro e la vedo che si muoveva no la guardo bene e vedo che stava ballando stava ballando e sopra di lei c'era un lampione che era probabilmente rotto perché Roma un po' un disastro come manutenzione era praticamente era rotto e praticamente si spegneva si accendeva si spegneva si accendeva si spegneva si accendeva e c'erano le amiche vicino che sorridevano erano ovviamente imbarazzate del fatto che c'era un po di gente in mezzo no e poi queste anche le amiche si sono avvicinate molto meno di lei hanno fatto due passi di danza no due passi di tecno di dance non lo so e e poi si sono messe a ridere via dicendo e se ne sono e se ne sono andate no io subito mi ha colpito questa cosa perché fra nemmeno ho pensato quanto abbiamo bisogno di normalità e anche la la piccola cosa che può essere farsi la serata in discoteca andare a ballare con le amiche no quanto abbiamo bisogno di normalità quando questa ragazza va vede il lampione rotto che lampeggia si mette a ballare sotto il lampione no tipo esatto allora e allora io ho fatto come dire prima mi ha preso un po un colpo così poi ho fatto un po tra me e me ho fatto un sorriso secondo me manca poco secondo me manca poco perché perché ovviamente il vaccino adesso avrà effetto non immediato non subito la ballerina di roma c'era enza la ballerina lì a roma perché se noi abbiamo enzo si si era in sacche era in sacche che ballava sotto la un po più bella come un po più bella rispetto al no non lo so era di era distante non mi sono avvicinato non gli ho chiesto se voleva bene qualcosa perché i locali erano già bella questa scena che hai descritto perché c'è tanta voglia di normalità che che trasuda e quindi speriamo veramente anche noi siamo pronti come lo eravamo già mesi fa per ricominciare ora quello che mi chiedo io è se veramente le persone saranno poi pronte a riprendere psicologicamente la vita di prima non parlo solo della vita della notte ma della società in generale cioè se c'è questa percezione anche da voi che state lavorando per farci uscire da questa situazione tu senti alessandro che c'è questa questa voglia c'è anche nei in chi in chi tra di voi sta lavorando all'acremente per farci uscire tu pensi che ci sia questa voglia allora io allora io penso che probabilmente qualcuno probabilmente qualcuno all'inizio non si fiderà ancora a uscire ci sarà una parte di popolazione che non si fiderà a uscire e manterrà la mascherina non andrà nei locali terrà comunque le distanze via dicendo però secondo me la parte giovane c'ha una voglia di c'ha veramente una voglia di 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 tornare alla normalità che è difficile tenerli ecco è difficile tenerli in questo momento anche perché non allora il 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 vaccino in italia parte il 27 di dicembre che in realtà è una data simbolica europea 27 dicembre ci saranno pochissime dosi però è una data simbolica perché giustamente l'europa vuole partire tutto insieme e l'hanno chiamato il l'euro v day cioè l'euro il giorno del vaccino europeo euro v day la vera vaccinazione di massa inizierà il 27 di gennaio e inizieranno tutti i medici tutti tutto il personale socio sanitario a prescindere dall'età quindi anche gli specializzanti perché sono quelli ovviamente più esposti poi partiranno con gli anziani over 90 over 80 over 70 intanto le categorie più a rischio che sono quelle che abbiamo detto prima che non hanno potuto fermarsi saranno come dire avvantaggiate e verranno vaccinate prima cioè sostanzialmente chi lavora in un ufficio chi fa lo smart working o chi come noi è molto molto giovane sarà vaccinato all'ultimo e quindi e quindi sì 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 ma l'ultimo nel senso fra sei sei sette mesi poi alla fine non è detto o comunque magari in forma parziale no perché una volta che tu vaccini la prima la parte di popolazione più sensibile cioè sostanzialmente una volta che vaccini quelli che col virus possono possono morire o possono finire in terapia intensiva e assottigli la quota di persone quindi che può avere dei gravi problemi con il virus allora lì sì veramente può iniziare a ripartire perché come come dire come si possono avere complicazioni per altre malattie la la percentuale di gente che potrà avere complicazioni per il virus sarà talmente bassa perché tutti gli altri sono già stati vaccinati quelli che possono avere complicazioni sono stati vaccinati quindi la percentuale sarà bassa e quindi si potrà tornare alla normalità io penso in quattro mesi per stare stretti sei mesi per stare larghi iniziamo non a vedere la vera normalità ma iniziamo come dire a respirare ecco iniziamo a vedere un mondo che assomiglia già al mondo vero perché questa è una roba che io ci tengo a dire lo sapete che lo dico sempre ogni tanto c'è qualche mio collega o qualcuno al governo o qualcuno che in generale fa politico qualche medico che scienziato qualche virologo che si riempie la bocca per andare sul giornale no scrive il mondo non sarà più quello di prima non si tornerà più alla normalità di prima ecco io faccio veramente un consiglio spassionato a quei politici a quei miei colleghi a que a quelli che stanno al governo i virologi medici che dicono e che pensano questa cosa ecco possono prendere e dimettersi andarsene a casa e cercarsi un altro lavoro perché oggi la politica la società civile la medicina la scienza la virologia deve avere un obiettivo solo che è quello di arrivare alla normalità chi non crede all'obiettivo che si arriva alla normalità ed è in prima linea per questa cosa può prendere dimettersi e andarsene a casa perché ovviamente il paese non ha bisogno di disfattismo il paese ha bisogno di gente che ci crede chi non ci crede via a casa tra l'altro io l'avevo già accenato ad andrea ma mi ero spiegato male perché erano di quei giorni che facevo 50 cose a volte ho le idee in testa ma non riesco a esprimerle a voce visto che tanti hanno dubbi sul vaccino sai solite cose come sempre dicono non è prima un settore prima l'altro io ho detto guarda visto ci sono tanti titubati prendiamo una persona normalissima che fa un lavoro diverso da tutti questi settori e rendiamola magari volontaria nel farsi vaccinare rendendo documentato tutto quello che gli succede no sarebbe carina cosa e allora gli ho detto io ci sono sarebbe bello io mi sono io mi sono però però purtroppo è però purtroppo ognuno deve aspettare il suo turno non puoi vaccinare persone che danno sai noi abbiamo comunque come ti posso dire noi siamo sempre stati pronti e lo saremo a partire per ultimo farci vaccinare per ultimi però se la gente ancora dei dubbi qualcuno come me che è disponibile non perché vuole fare la gara ad accapponarsi prima questa cosa ma per dimostrare che bisogna avere fiducia in tante cose sì 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 certo io uguale assolutamente dico a tutti vaccinatevi vaccinatevi come ho sempre detto non come ho sempre detto le mascherine a distanza lavatevi le mani eccetera eccetera anche questa cosa qui è talmente normale cioè io non voglio neanche ipotizzare che ci sia qualcuno che non vuole vaccinarsi cioè una roba veramente da 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 fuori di testa perché vuol dire tornare alla normalità molto semplicemente vuol dire tornare alla alla normalità poi in breve tempo ci saranno altri vaccini adesso se non se non vi fidate di questo vedete che adesso nel giro di di gennaio l'autorità europea autorizzerà un altro vaccino poi un altro insomma ci saranno probabilmente fino dentro entro marzo ci saranno almeno cinque vaccini che boh si potranno scegliere o si potranno non scegliere comunque si potrà ci sarà margine ecco c'hai un albero di natale dietro alex un albero un albero di natalex un albero di natalex molto bene perché il 24 faremo la diretta che si chiama buon natalex e merry christian così almeno siamo in tema natalizio quindi adesso abbiamo fatto due parole continueremo vi ricordo che alessandro è in pausa dalla camera dei deputati se dico cose giuste perché io con i termini tanto cicco canno però prima di salutare manderò un messaggio tutti per fare gli auguri di natale pensate un'ora insieme a fare due chiacchiere usate quest'ora tra l'altro devo leggere un po' di messaggi che sono arrivati ti salutano giuseppe palamara andrea borruso moreno luciano lacchio salutano anche la tua famiglia e alessandro gian pietro massa renzo insomma mattia poi abbiamo anche riccardo insomma un sacco di persone che ti salutano e fanno gli auguri a te famiglia seriamente non è una battuta non lo sentiamo ma non ci sentiamo c'è l'audio vediamo un attimo per la connessione su roma è difficile a volte riconnettere a volte è più facile la connessione tra di noi che c'è simpatia tra di noi comunque vaccinatevi e noi stiamo parlando anche nella nella nostra nel nostro interno di vaccinazioni di far vaccinare le persone che ci sono più care vero maledetto un richiamo un richiamo un richiamo ecco alle che sta tornando da roma con amore che si collega eccolo qua ecco alle bentornato eccomi eccomi scusate non so come mai di solito qua prende possiamo dirlo che che moreno moreno luciano l'acchio o è il magnifico potestà in carica ma dici un po ma roma sì 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 a roma in questo momento che clima si respira cioè descrivici minuziosamente il clima morale e anche il clima a livello proprio meteorologico che state vivendo in questi giorni nella capitale beh roma è comunque 500 chilometri a sud del canalese quindi ovviamente qua rispetto ai nostri canoni non fa assolutamente freddo ovviamente rispetto ai nostri rispetto ai nostri canoni qua è come dire è molto e molto e molto più 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 mite poi è divertente vedere come noi praticamente siamo con con la giacca e teniamo il soprabito in mano mentre i romani che sono acclimatati al clima romano sono col cappotto con la sciarpa con i capelli pesanti no e devo devo dire invece no da un punto di vista politico ovviamente c'è c'è scontro in questo momento perché c'è scontro soprattutto sul tema del del recovery found perché ovviamente ognuno ha un'idea diversa su su come devono essere gestite su come devono essere su come devono essere investite le risorse di di questo recovery found quindi c'è chi ovviamente dice deve devono essere fatte certe cose non essere abbassate le tasse altri dicono no devono essere fatti gli investimenti quindi ovviamente c'è il clima da questo punto di vista è teso e c'è un'area di di scontro ecco d'altra parte il fatto che ieri l'europa ha detto che la somministrazione del vaccino può iniziare è il fatto che fra meno di una settimana c'è questo euro v day da un punto di vista anche personale delle singole persone c'è questa c'è questa boccata diciamo di di energia e nella consapevolezza perché ovviamente poi noi lo sappiamo benissimo che non sarà tutto così immediato facile tac ed è tutto risolto però nella consapevolezza che per lo meno una svolta per lo meno si va verso si va verso la normalità e e quindi c'è tensione da una parte e fra i gruppi però dall'altra parte come singole persone c'è questa nuova energia e tutti hanno voglia comunque di di esprimerla ecco no cioè come dire se si parla un po di più si sorride un po di più e via dicendo no e questo però ovviamente senza dimenticare che invece il momento è teso per quel che riguarda questo questo recovery via dicendo tra l'altro ho visto che talao ha condiviso ha condiviso su sempre nobili la foto la nostra foto della diretta salutiamo anche gli amici di igra e sarà dura comunque però noi abbiamo un motto ultimamente che è sorridere sempre bisogna sorridere cerca di andare avanti in tutto quello che sta accadendo ogni giorno so che non è facile però the show must go in tutti i sensi tutti i settori e non ci potete dire della notte che ah parli te no no parliamo proprio noi che sono dieci mesi quindi se vi diciamo noi sorridete tranquilli che dovete sorridere insomma noi avete più motivi esatto 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 bene ragazzi io mi sa che allo scoccar delle 22 10 devo rimettermi la giacca la giacca la mascherina e devo tornare in aula che le 22 25 più o meno devo essere seduto lì quindi mi ci va una decina di minuti di camminata e quindi vi ringrazio per l'ospitalità grazie mille ovviamente un un se non ci sentiamo più buon buono sto scherzando a te famiglia a te famiglia se non ci vediamo più no a parte gli scherzi vi faccio veramente i più cari auguri di un sereno natale per quanto possa essere possibile e stringiamoci così intorno ai nostri affetti per quanto possa essere possibile intorno a quelle che sono le cose importanti sarà di sicuro un natale particolare un natale diverso però ovviamente cerchiamo un attimo di trovare un po di serenità in questi giorni e come dite voi teniamo duro e sorridiamo perché sta per arrivare la svolta ecco io sono questa sera mi sento di essere particolarmente ottimi ottimista quindi veramente a tutti voi alle vostre famiglie un caro caro abbraccio e ci aggiorniamo e ci sentiamo come sempre a disposizione per qualsiasi cosa e complimenti per tutto quello che parte grazie 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 al nostro inviato di roma onorevole alessandro giglio vigna che me lo immagino negli anni 90 nelle nelle discoteche è uno dei miei fans quindi stasera posso andare a dormire contento ho sbottato la giornata e e siamo contenti di aver cresciuto un ragazzino così se non glielo grazie ciao 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 beh che dire ragazzi abbiamo respirato l'aria di roma abbiamo sentito in diretta della viva voce senza filtri giornalistici quello che stanno facendo i parlamentari grazie ad alessandro e grazie a metticelli perché sono amici sono coscritti si conoscono solo che metticelli è rimasto con me qua e loro hanno fatto strada anzi sono ricordati che un po di eporadio è arrivata la e sanno cosa facciamo come vedi sono tutti molto ben informati lo sai che era voglia comunque vogliamo ricordare una cosa eporadio è la radio di ivrea è una radio politica quindi chiunque volesse intervenire a fare gli auguri a qualsiasi partito noi siamo qua non era un assolutamente un dibattito né uno spazio pubblicitario pagamento politico semplicemente qualcuno ha voluto fare gli auguri di natale facendo due parole non abbiamo fatto domande da una parte o dall'altra né di ideale tutto quanto siamo aperti giustamente a tutte le persone vogliono intervenire facendo gli auguri perché queste strade sono a tema auguri di natale e soprattutto a noi piace che le persone che intervengono stanno comunque alle tra virgolette alle regole e parlano di quello che fanno però sono sul pezzo diciamo così giusto johnny b good adesso stasera stasera si fa la pugna adesso adesso metto uno stato su facebook significativo e tu lo sai tu lo sai tu lo sai e va bene ragazzi è andata così è andata così qualcosa volete che vi dica abbiamo cresciuto gente sana abbiamo cresciuto gente che hai capito miga bene 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 siete pronti per il 24 eh siete pronti avete preso l'accappatoio io no io no a petto naudo a petto naudo e poi anche domani sera avremo un altro ospite sempre nell'ambito politico diciamo così che è già stato nostro ospite su epporadio e con anche con lui faremo gli auguri di natale e e niente e questo domani sera però ci collegheremo alle 21 quindi io e Cristian 20 e 45 fino alle 21 e 30 questi collegamenti non sono una puntata intera di un'ora però appunto ci tenevano a fare gli auguri e vi ripeto se qualcuno volesse partecipare a fare gli auguri di qualsiasi cosa ci avvisa mi scrive il mio numero anche quindi state tranquilli non vi preoccupate don't you worry about me don't you worry about me bene se è proibito nel tuo status siamo se ritenete che dobbiamo farci la barba pollice up se ritenete che ci possiamo tenere questa barba incolta pollice up questo io la vorrei fare per il 24 la barba eh anche se abbiamo i più grandi nomi in queste serate però vorrei fare per il 24 adesso siamo un po' vissuti con questa ma tu sembri la cantante dei forno blondes dopo che non ti senti la seretta così ma voi ve ne ricordate la cantante dei forno blondes eh che faceva in asse e i e i e dai ve lo faccio uno ve lo faccio uno ve lo faccio scusate devo cambiare banner se no non lo leggete come si scrive come si scrive forno blondes amici importante in asse e ye 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 yeah i say ye 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 yeah i say ye what's going on ecco forno blondes eccolo qua amici impariamo impariamo a scrivere inglese perché un conto è pronunciarlo un conto è scriverlo scriverlo, poi anche il ritornello, anche what's going on, what's going on, accordatissima la mia chitarra, la mia chitarra della Kiko Kistap, ecco what's going on, ecco come si scrive what's going on, noi ringraziamo tutti quelli che in queste sere ci guardano, so che siete molti, abbiamo dei numeri incredibili, abbiamo tutti anche quelli che erano dei seri problemi mentali che ci seguono, quindi a loro vanno i nostri saluti e i nostri abbracci. Bene, se vi chiedete se Metticelli ha avuto una Paresi, no, sta pensando, non so cosa ti ha pensato. Gio Paresi, salutiamo anche il vecchio Gio, eh ragazzi. Hai sentito il mio disco? No, ho detto questo, va bene. Per me, 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 facciamo così, facciamo una colletta per comprare una kaitarra nuova a Cristiano, vi ha detto anche Arlecino. Ho visto che hai cambiato connessione, quindi ringraziamo tutti i provider. se hai collegato Gianni, sta facendo streaming. Gianni in streaming. Grazie, grazie Renzo, grazie. Grazie di cuore. Siete pazzesci, pazzesci. Ah, grandi. Non devi andare, perché poi so che ridi. E quindi, grazie, grazie di seguirci, perché solo i pazzi ci seguono qua. Seguarci. Signori, ci vediamo domani sera a 20.45, siamo in live, fino alle 21.30, un'altra serata di auguri, ma poi preparatevi, perché il 24, dalle 21.30 a mezzanotte, guarda, pazzesco, pazzesco. Ho già in mente di far vestire Gianni come San Giuseppe, Raita e tutti quanti. Raita come la Madonna. Raita come la Madonna nel presepe, immagino, si è vestito. Esatto. Poi mettiamo Angelo e Agnese a fare i Re Maggi. Dire te facciamo il Bue e l'Asinello. Il Bue e l'Asinello, sicuramente. Babau, eh? Io più Bue, più Bue, non so come mai. No, 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 nessuno. Allora facciamo così, facciamo entrambi i DJ, dai, per una volta. Ma a che lavoro è il DJ, scusami? Ne sentivo parlare. E' finita, è finita. Che anche il nostro amico Assessore è stato onorevole. Onorevole. Assessore di Prato Corto. Il nostro amico onorevole ci abbia dato ottimismo. Però qua l'è dura. È dura, cari amici, è dura. E tutto sarà... Ci sarà troppo. Ci sarà a vedere quando riapriranno tutto quanto. Signori, noi vi diamo la buonanotte, ci vediamo domani sera. Saremo in diretta fino alla fine dell'anno, quindi abbiate pazienza. Ma chiacchiere, casino, tutti insieme, tante belle cose. Buonanotte da Cristian Rovier. Buonanotte da Alex Metticelli. Grazie a tutti. A domani. A domani. Mi è rinforzato l'emaraggio. A domani con una bella live, ragazzi. Grazie a tutti. Un bacio. Buonanotte. Ciao. 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 Ciao.